Nuovo capitolo della vicenda Marconi, il liceo di Pescara che sarà abbattuto e poi ricostruito perché presenta seri problemi legati alla sicurezza. La ripresa scolastica, si spera in presenza, è sempre più vicina il 13 settembre e deve essere trovata una sistemazione definitiva alle 67 classi e ai circa 1.500 studenti, oltre al personale ATA e agli altri dipendenti dell'istituto. Oggi tuttavia ci sono novità importanti che ci vengono annunciate dal professor Giovanni Dursi, portavoce del comitato Marconi-Covadis. Partiamo dal fatto che lei ha interrotto proprio oggi la sua protesta, la sciopera della fama. Sì, stamani ho deciso di interrompere per evidenti limiti fisiologici ma anche perché la nostra battaglia, la nostra mobilitazione ha raggiunto un punto di svolta con un pronunciamento chiaro da parte dell'ufficio scolastico regionale, quindi la dottoressa Tozza, la dirigente generale dell'ufficio, ha imposto sostanzialmente la sospensiva all'ordinanza di sgombero che ha emanato la provincia, tra l'altro anche per vizio di forma, nel senso che in una ordinanza di sgombero bisogna che siano indicate proprio le sedi, oserei dire gli indirizzi degli edifici che ospiteranno la comunità scolastica del liceo Marconi di Pescara. Naturalmente sul Marconi abbiamo provato a sentire la versione della provincia ma il presidente Antonio Zaffiri ha preferito darci soltanto qualche informazione a voce che riportiamo. È stata trovata la sistemazione per 13 classi che saranno ospitate dalla Di Marzio, per le altre c'è un piano che è già pronto. Attendiamo, ha concluso Zaffiri, di poter chiudere i contratti con le strutture che dovranno ospitare le classi utilizzando fondi regionali o del MIUR. Intanto però famiglie e studenti aspettano e in più di un caso fuggono ancora ad Ursi. A me risulta un numero circa di 30 richieste da parte dei genitori di nulla osta per iscrivere i propri figli presso altri istituti. Quindi un risultato il presidente Zaffiri l'ha già ottenuto ai danni della comunità scolastica del Marconi. Infine una delle poche certezze da registrare in questa vicenda è lo spostamento degli uffici amministrativi e di segreteria presso alcuni locali della provincia, per intenderci quelli di via Avezzano dove si trovava la Croce Rossa. Stamani abbiamo anche incontrato il nuovo dirigente scolastico dell'istituto, Giovanna Ferrante, che dal primo settembre subentrerà a Florideo Matricciano che andrà in pensione.